Buonasera a tutti, siamo qua all'intervista di Federico Mazzocchi del suo primo Major di San Benedetto. Com'è stato questo Major? Questo Major siamo venuti qua senza pretese, dati da sfavoriti e anche se siamo usciti abbiamo combattuto, siamo andati sul tavolino con tanta grinta, tanta volontà, ma gli avversari si sono rilevati più forti e siamo usciti tutti e tre i membri del settore giovanile. Comunque questo torneo serve per crescere, serve a noi e speriamo che il prossimo torneo vada meglio.